Innanzitutto apriamo il sensore per controllare che la batteria è inserita correttamente, accediamo al menu e inseriamo la password amministratore. Inseriamo il numero identificativo del nostro sensore da codificare, ad esempio 2 per il secondo radar, quindi premiamo 2, cancelletto. Per attivare il sensore premiamo per 3 secondi l'antimanomissione, quindi premiamo cancelletto per salvare e usciamo dal menu. In questo modo se inseriamo l'allarme e viene rilevato un movimento dal nostro radar, il sistema va in allarme. Sistema di arma